La Risa Gassi ha un commento sulla partita? Mamma, è finita male, i nostri ragazzi hanno provato fino all'ultimo set di mani attaccati alla partita ma nel momento ci manca, ci manca gioco, ci ha manciato un po' di esperienza, più di tangente, non siamo riusciti a prendere neanche un set, peccato perché già un set ci avrebbe dato un po' di fiducia e ci avrebbe fatto giocare un po' più sciolto, noi facciamo degli errori soprattutto nelle situazioni di equilibrio nella parte importante dei set, viene fuori, emerge e ci manca un po' di esperienza. Grazie.